Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Fiorello presto sarà nonno. Ma prima a ottobre la figlia maggiore Olivia Testa si sposerà con il compagno Ansperto Radice Fossati Confalonieri. Lui è il rampollo di una delle famiglie più antiche della nobiltà milanese, ha una passione per il disegno e l'arte, che lo accomuna Olivia, e pare andare molto d'accordo con il suo suocero showman. Olivia in realtà è nata da una relazione precedente di Susanna Biondo, moglie di Fiorello, ma è stata cresciuta dal mattatore della Rai come una figlia a tutti gli effetti. Fiorello, la figlia Olivia verso le nozze. È stato un anno scoppiettante per Fiorello. In attesa di capire se in qualche modo raggiungerà l'amico Amadeus sul 9, il comico si concentra su traguardi importanti all'interno della sua famiglia. La figlia piccola Angelica ha appena compiuto 18 anni, mentre la più grande Olivia sta per compiere il grande passo. A ottobre infatti si sposerà con il nobile Ansperto Radice Fossati Confalonieri e a fine anno i due diventeranno finalmente genitori. Di recente Fiorello è stato paparazzato da Chi a Venezia mentre si recava in sopralluogo per decidere la location del matrimonio di Olivia. Con lui anche Susanna è il futuro genero Ansperto, molto affiatati e anche parecchio sfuggenti all'occhio dei paparazzi. Olivia Testa, in effetti, non ha mai condiviso l'amore per i riflettori del padre. È nata dal precedente matrimonio di Susanna Biondo, che incontrò Fiorello quando Olivia aveva appena tre anni. Nel 2006 poi Olivia è diventata sorella maggiore quando è nata Angelica e nel frattempo si è dedicata agli studi in design, li ha completati e attualmente lavora all'interno del comitato organizzatore dei giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026. Ansperto Radice Fossati Confalonieri è il futuro marito della figlia di Fiorello, Olivia Testa. È il rampollo di un'antica casata nobiliare milanese, cresciuto nella Milano bene e appassionato di arte e disegno. Proprio l'amore per il design pare l'abbia avvicinato a Olivia, quando si sono conosciuti. Presto Olivia e Ansperto si sposeranno e diventeranno genitori.